C'è un tempo ternario, è molto probabile che c'è un cerchio, un movimento circolare. Il cerchio è una di quelle figure che può essere facilmente divisa in tre. Il cerchio è un tempo ternario, è molto probabile che c'è un cerchio, un movimento circolare. Il cerchio è un tempo ternario, è molto probabile che c'è un cerchio, un movimento circolare.